Ciò che abbiamo documentato in Polonia è inaccettabile e valifica gli sforzi di migliaia di cittadini italiani che quotidianamente raccolgono e separano correttamente i rifiuti. Di plastica ne produciamo e ne produrremo sempre di più e il sistema non è in grado di riciclarla. Bisogna invertire subito la rotta, ridurre la produzione a partire dalla frazione spesso inutile e superflua rappresentata dall'usegetta. Solo così riusciremo a impedire che la Terra diventi un pianeta di plastica. Grazie per la visione!